E' difficile vivere così, è difficile perché non abbiamo una sicurezza, qualsiasi cosa facciamo abbiamo sempre il pensiero di dire è la casa e quindi non si vive neanche tranquilli questo sì. E' una casa la propria ad alimentare le preoccupazioni di Cinzia Berneschi. La vicenda è iniziata anni fa quando alcuni aretini decisero di diventare soci di una cooperativa edilizia, la cooperativa Perla, per acquistare casa ma al momento dell'assegnazione delle abitazioni ad alcuni soci sarebbero stati richiesti oltre ai costi di costruzione che si aggiravano attorno ai 300.000 euro ulteriori 35.000 euro a testa che non sarebbero riferibili al costo della casa. Nel 2009 quando eravamo pronti dopo aver pagato tutta la casa per il contratto dal notario ci hanno gesto i famosi 35.000 euro. Sono stati richiesti solo a quelli che dovevano fare ancora il contratto e non a tutti i soci pur essendo un debito sociale. Alcuni soci pagarono, altri decisero di non pagare e vennero estromessi dall'assegnazione delle abitazioni. Alcuno ha pagato per paura, per timore di perdere la casa e invece in nove abbiamo deciso di ribellarci un po' a questa cosa. Così nel 2009 alcuni soci denunciarono il presidente della cooperativa con l'accusa di tentata estorsione, dando il via così a una lunga trafila giudiziaria. Due condanne del presidente, una in primo grado come bancarotta fraudolenta e tentata estorsione e poi in secondo grado in corte d'appello ha confermato la bancarotta fraudolenta e ha modificato il capo d'accusa in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Comunque confermando sempre che 35 mila euro non dovevano essere pagati per avere il contratto. E nonostante le sentenze, la cooperativa è fallita e per i liquidatori queste sentenze sono ininfluenti. E quindi ad oggi siamo a cercare di capire se vanno all'asta oppure se dobbiamo ripagare tutto l'importo ai liquidatori. Una condanna in primo grado, una condanna riparita poi in secondo grado, adesso il ricorso si andrà in Cassazione? Sì perché la parte avversa ha fatto ricorso in Cassazione e ora non sappiamo quando ci sarà. Di cosa avreste bisogno? Sinceramente mi piacerebbe che qualcuno, a parte controllare questo settore perché non c'è controllo, e poi che qualcuno prendesse veramente in mano questa situazione e facesse le cose giuste. Questo sì. Grazie.